Uno spazio dedicato all'arte contemporanea che nasce in un luogo che per quasi 40 anni ha avuto funzione di portineria. Siamo nel quartiere Due di Firenze all'interno di un palazzo appena ristrutturato che in qualche modo è icona architettonica degli anni 70. Ci interessava appunto questa idea di dialogo sia con le persone che torneranno ad abitare il palazzo stesso ma anche con tutte le persone che passano lato strada, quindi con il quartiere potremmo dire. Quindi questo spazio è una doppia natura. Da una parte è di sperimentazione a riguardo all'arte contemporanea ma da un certo punto di vista è anche di divulgazione dell'arte contemporanea stessa. A solo è il titolo della serie di mostre personali che per un anno animeranno lo spazio di Viale d'Use a Firenze. L'inaugurazione con la personale di David Casini, Eliminare la carne, un percorso che vede la rielaborazione libera di alcuni personaggi della storia dell'arte. Tutta la mostra è sul mascheramento, la doppia identità, l'esagerazione, la finzione. La portineria intende essere quindi un centro di attività e stimolo culturale in città tramite progetti e modalità espositive che cambieranno ogni anno. Abbiamo deciso di dare spazio all'arte, quest'arte per promuovere gli artisti contemporanei non solo nel quartiere ma anche in tutta la città. E quindi crediamo di essere un polo di attrazione per artisti emergenti. Grazie a tutti.